Il giorno di ripartenza per lo stabilimento Fincantieri di Monfalcone così come per altre realtà produttive della regione, ripresa del lavoro senza intoppi per 685 dipendenti cantierini suddivisi in due turni dalle 6 alle 13.30 e dalle 13.30 alle 21.00. Il personale in ingresso al cantiere è stato incanalato in un percorso prestabilito per l'accesso alle strutture dove sono stati effettuati i controlli della temperatura con il termoscanner. Le strutture sono state allestite nel parcheggio antistante il Museo della Cantieristica. Il gruppo ha acquisito nei giorni scorsi milioni di dispositivi di protezione individuale come le mascherine che vanno sostituite più volte nel corso del turno quotidiano. Questi dispositivi vengono consegnati in kit a ciascun lavoratore all'ingresso. Molti dei dipendenti del secondo turno sono giunti con largo anticipo all'ingresso dello stabilimento diversi quelli che già indossavano la tuta di lavoro. L'uscita dal primo turno è stata organizzata in modo da evitare l'intasamento di personale. Tale organizzazione proseguirà ogni giorno fino a venerdì. Da lunedì 27 aprile e primi di maggio il ritmo degli ingressi subirà un'accelerata con il graduale ritorno al lavoro delle ditte dell'indotto. Sono 16.127, 192 in più rispetto a ieri i casi positivi al coronavirus dall'inizio del contagio in Veneto. Secondo quanto riferisce il bollettino regionale, sono invece 10.061 i casi attualmente positivi, 149 in meno rispetto a ieri. Il dato del totale dei deceduti è di 1.112, di cui 939 in ospedale, più 21 su ieri. I negativizzati sono 4.954. I soggetti in isolamento 11.658. Aumentano a più 9 i ricoverati nelle aree non critiche degli ospedali. ora a quota 1.273, mentre continua la discesa nelle terapie intensive con 180 pazienti, meno 4, i negativizzati ancora ricoverati, 328, i dimessi 2.117. Resta ancora alto il numero di sanzioni combinate dalle forze dell'ordine in Friuli, Venezia e Giulia per violazione delle restrizioni sulla mobilità su 2.194 persone controllate, 160 sono state sanzionate, una persona è stata denunciata e altre 4 sono state denunciate per altri reati. Sono stati inoltre controllati, 362 tra attività o esercizi commerciali, per uno di questi è stata disposta la chiusura. È partita oggi dalla sede della protezione civile regionale del Friuli, Venezia e Giulia a Palmanova, alla volta di Trieste, un carico di 56.122 mascherine che saranno recapitate alla popolazione del capologo giuliano nell'ambito dell'iniziativa partita lo scorso mese, finalizzata a dotare tutti i nuclei familiari del Friuli, Venezia e Giulia di questi dispositivi di protezione. Lo ha comunicato il vice governatore con delega alla salute e alla protezione civile del Friuli, Venezia e Giulia, Riccardo Riccardi, dalla sede della protezione civile del Friuli, Venezia e Giulia di Palmanova, da dove è partito il convoglio, al quale la prossima settimana ne seguirà un altro per completare la distribuzione nella città di Trieste. Si tratta, come ricordato lo stesso Riccardi, di mascherine lavabili fino a 20 volte e quindi riutilizzabili per 40 giorni. Questi dispositivi prodotti da aziende regionali acquistati dalla protezione civile del Friuli, Venezia e Giulia hanno un grado di filtrazione di 5 micron per contenere le particelle salivali e ridurre in questo modo la diffusione del contagio da coronavirus. Ed ora la linea passa alla redazione di Treviso. L'emergenza Covid e divieti, suoni di marca verso lo stop. L'edizione del trentennale della Kermess sulle mura rischia di slittare al 2021. Il Comune ha detto o si tiene come sempre a fine luglio oppure si deve rimandare. Coronavirus alla casa Fensi di Conegliano, pronto l'esposto dei familiari. Portami via di qua è l'anziana disperata che chiede aiuto al presidente del Comitato Familiare dopo la strage di ospidi contagiati. Da febbraio 50 morti. Zanet si è già rivolto al Nassa. Coronavirus, sei missionari trevigiani già morti. Si è spento anche padre Anzanello, originario di Arcadia, dell'Ordine dei Saveriani di Parma. Un alto tributo di vite da parte dei preti della marca impegnati all'estero. Coronavirus, altre sei vittime. Contagiati sotto quota 1.400. I casi attualmente positivi al Covid-19 in provincia di Treviso sono 1.387, mentre 2.285 trevigiani in quarantena volontaria. I ricoverati in terapia intensiva restano 25. I numeri continuano a scendere. Calciatore e insegnante Damiano Zugno muore a 31 anni per un tumore. Originario della provincia di Venezia, insegnava all'Istituto Paritario Galilei di Treviso, un esempio per i suoi allievi e per i suoi compagni di squadra. Rosario Moreno, Treviso, per Radiodiffusione Europea. Bisogna tenere duro e continuare a mantenere il punto. Siamo entrati in una fase che secondo me è molto più delicata di quella iniziale in cui è necessario serrare le fila e l'appello rivolto ai cittadini dal prefetto di Trieste, Valerio Valenti. Il clima che si respira in questo momento in città dopo l'allentamento delle misure che consentono in particolare di effettuare attività motorie e passeggiate nei pressi della propria abitazione è preoccupante, spiega Valenti, perché non vorrei che passassi il messaggio di un liberi tutti e di assenza di limitazioni che poi potrebbe portarci a rischiare di pagare un prezzo molto più alto. E' comprensibile, aggiunge il commissario di governo, la gente è stanca, c'è bel tempo, fa caldo il fatto di intravedere che le cose stiano migliorando, ha portato a consentire qualche libertà in più, ma questo insiste è diventato un problema. La salute e la sicurezza prosegue, non sono esclusivamente relegate all'uso della mascherina, al distanziamento sociale. Non siamo ancora arrivati a questo punto, siamo nella fase in cui il contagio è regredito grazie alle misure stringenti di contenimento adottate nei giorni scorsi. Su un totale di 330 casi di riposo del Veneto, 244, cioè il 73,9%, sono pulite, e non hanno registrato casi di contagio da coronavirus. L'ha detto il governatore Zaia, riferendo i dati dello screening effettuato nell'RSA della Regione. L'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, ha poi spiegato che il tasso di contagio registrato tra gli ospiti dell'RSA è del 6,4%, 2.154 persone, è del 3,2% tra gli operatori 1.300, dati che confermano nelle percentuali quelli anticipati nei giorni scorsi, quando le verifiche ancora non complete. I decessi sono stati 345 per un indice di letalità del 15,7%, circa la metà della data media nazionale. L'amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia informa che sul portale sistema tessera sanitaria www.sistemats.it nella sezione riservata ai cittadini è stata attivata una nuova funzionalità che permette di stampare in formato PDF la propria tessera sanitaria. Si tratta di un'opportunità valida sia per le tessere con data di scadenza prorogata al 30 giugno 2020, secondo quanto disposto dal decreto legislativo Cura Italia 9-2020, sia per le tessere con scadenza successiva. Come previsto dal prevedimento nazionale, si ricorda che le tessere soggette a prologo non hanno validità a TIM e quindi non possono essere utilizzate per usufruire delle prestazioni sanitarie all'estero. Io amo il Friuli Venezia Giulia, io resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia e io resto a casa. Ciao ragazzi, anche io amo il Friuli Venezia Giulia e anche io resto a casa. Ok? Anzi, io resto in radio. Io amo il Friuli Venezia Giulia e resto a casa. Adoro il Friuli Venezia Giulia, appena potrò verrò a trovarvi. Ma per adesso io resto a casa. Ciao a tutti, io amo il Friuli Venezia Giulia e resto a casa. Io amo il Friuli Venezia Giulia e resto a casa. Restiamo tutti a casa. Pompi anche tu un gesto d'amore. Resta a casa. Passiamo in chiusura alle previsioni meteorologiche sul Friuli Venezia Giulia. Domani cielo in genere poco nuvoloso. Soffierà a Bora da moderata sostenuta in pianura, forte sulla costa. Specie a Trieste dove le raffiche saranno sui 110 km orari. Vento da nord-est sostenuto anche in quota. Passiamo al Veneto. Al mattino generalmente poco nuvoloso. Sulle Dolomiti generalmente nuvoloso altrove. Specie in pianura nella parte centro-meridionale. Nel pomeriggio sera cielo sereno poco nuvoloso. Ovunque precipitazioni generalmente assenti salvo una probabilità molto bassa da 0-10% di qualche residuo piovasco nelle prime ore del mattino sulla pianura meridionale. Previsioni a cura di ARPA e FWG Meteo e ARPAV, agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto. Appuntamento alla prossima edizione. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS